Si è presentata la città oggi il nuovo prefetto dell'Aquila Giancarlo Di Vincenzo che ha preso il posto di Cinzia Torraco e divenuta prefetto di Genova. Da luglio 2020 il dottor Di Vincenzo è stato prefetto di Pescara, un curriculum ma di tutto rispetto il suo. Un onore essere all'Aquila, ha detto, una città nella quale intendo collaborare con tutte le istituzioni. È uno per la trasparenza il prefetto e metterà tutti al corrente delle iniziative della prefettura per migliorare la qualità della vita nel territorio. In questa settimana ci sarà Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica all'Aquila, successivamente ad Avezzano e Sulmona. Nella città si consumano sempre più episodi di risse e violenza e c'è una percezione di insicurezza. Il prefetto assicura che si lavorerà per rafforzare questa percezione, fermo restando che bisogna per lui parlare di più di qualità della vita. Innanzitutto sono felicissimo di essere all'Aquila, città e provincia bellissime. Mi metterò a disposizione del territorio, a disposizione delle autorità per migliorare sempre più la qualità della vita in questo territorio. Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza a quale ho fatto riferimento, lavoreremo sicuramente con massimo impegno, ma senza né sottovalutazioni né sopravvalutazioni. In merito alla sicurezza, il prefetto ha aggiunto che conosce l'Aquila d'Abruzzese, dunque si analizzerà la situazione senza sottovalutare nessun aspetto. Sulla questione baby gang e comunità di minori non accompagnati, il fenomeno è a livello nazionale ha spiegato non solo all'Aquila, bisogna riflettere e lavorare anche in relazione al contesto territoriale, senza sopravvalutare né sottovalutare, ha ribadito.